25 aprile del 2015 rappresenta il settantesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo quindi sia dal regime fascista che dall'invasione tedesca nazista e anche della conclusione della seconda guerra mondiale. È molto importante partecipare alle iniziative della commemorazione di questo anniversario, sia per ricordare il passato, quindi avere memoria della nostra storia, ma anche per ribadire il nostro impegno civile per una democrazia realmente compiuta basata sulla Costituzione, il vero frutto della guerra di liberazione partigiana. Tutti i giorni riceviamo notizie di guerre, attentati, barconi che affondano ammietendo vittime, le nuove guerre fondate su armi tecnologiche con un livello di distruzione di massa sempre più alto. Bene, quest'anno dobbiamo ricordarci, e il nostro impegno è fondato anche su quella memoria, il discorso della pace. La pace come lo Stato, come la Costituzione, siamo noi e dipende da noi. Facciamo tutti la nostra parte come l'hanno fatta i partigiani. Giovedì 23 aprile alle ore 20.30 partita partirà da Piazza Arbarella Torino, la fiaccolata per la liberazione organizzata dal Comune in coordinamento con le Associazioni della Resistenza.